buongiorno ragazzi oggi domenica 8 maggio 2022 e la festa della mamma io sono qua nel campeggio vi faccio vedere una cosa come sono riuscito a mettere l'amato giggetto completamente a livello mettendo solo un po di scavando un po qui davanti un paio di centimetri anche dall'altro lato e siccome è piovuto vi faccio vedere il fatto che ci sia una bella piscina vi fa capire che è completamente a livello a proposito carissimi amici vedete il video intitolato il perché non si deve lavare il tetto del campo comunque strofinato forte e vedete quello che mi è stato consigliato negli anni e perché io non lo lavo alla prossima ciao